Buonasera, ben ritrovati con questo spazio di comunicazione politica, l'ultimo riservato alle amministrative per il comune di Montorio Alvomano che chiudiamo ovviamente con i tre candidati sindaci, ad iniziare dalla mia sinistra Fabio Altitonante della lista civica un'altra Montorio, buonasera ad Alessandro Di Giambattista per la lista impegno comune, buonasera ad Eleonora Magno della lista Montorio, guarda avanti. Abbiamo prima dell'inizio della trasmissione provveduta ad un'estrazione, predisporremo nove domande, tre ciascuno a rotazione, il primo ad iniziare sarà Fabio Altitonante, la domanda è per tutti e tre i candidati sindaci. Allora siamo di fatto a 48 ore dal silenzio elettorale, direi che siamo nel momento di poter tracciare una linea di quel che è stato e se ci sono stati momenti di questa campagna elettorale particolarmente poco graditi. Per fortuna ancora no, anche se oggi si iniziano a riscaldare gli animi perché ho la sensazione che un'onda del cambiamento stia arrivando a Montorio. Sono state tre settimane intense in cui ho capito che c'è da fare un lavoro incredibile su Montorio e quando dico che farò il sindaco gratis, non è per dire a livello demagogico come fanno i 5 stelle, perché chi fa il sindaco deve essere pagato e ben pagato, ma è per dire che avrò bisogno di uno staff che studierà i dossier, di quello che dobbiamo fare, è un percorso molto difficile e quindi con quel budget di 25 mila Euro del sindaco allestiremo uno staff che ci dia un supporto per rivoluzionare Montorio, perché oggi Montorio atterra e rischia la chiusura. Di Giambattista. Anche per me sono state settimane intensissime, ovviamente stiamo cercando e abbiamo cercato di far capire ai cittadini di Montorio che cambiare, cambiare, cambiare ha portato a quello che si ha avuto negli ultimi 5 anni, una instabilità politica, commissariamenti continui, quindi un programma serio, realizzabile e quello che noi abbiamo proposto agli elettori e che penso sarà premiato dagli stessi il prossimo 20 e 21 settembre. Un consultivo della campagna politica di Eleonora Magno, ripeto, se ci sono stati, se ci sono stati, momenti poco graditi in questa competizione. Una bella campagna elettorale, mi ero ripromessa di rimanere sui temi, sui contenuti, il programma è denso, abbiamo progetti importanti per Montorio, abbiamo idee piccole e idee grandi, tutte assolutamente realizzabili, concretizzabili, partono dal valorizzare quello che c'è con un grande rispetto per l'identità dei montoriesi, con umiltà, ma anche con la consapevolezza di poter realmente dare un contributo per raggiungere gli obiettivi. E allora la fiducia nei montoriesi è ripagata perché sentiamo che c'è una bella risposta, sentiamo che non si lascia troppo credito alle favole e alle trovate populiste, estemporanee dell'ultimo momento. Bella campagna elettorale. Ripartiamo con Alessandro Di Giardino, vi siete mai, provo ad entrare un po' più nel dettaglio, vi siete mai sentiti vittime di situazioni che sono state create ad arte dagli avversari o dai loro contorni politici, magari per sminuire la bontà della vostra candidatura? Questo viene fatto quotidianamente in una campagna elettorale, però da qui a sentirmi vittima ce ne passa, ovviamente la mia, come ho ribadito in questi giorni, è una lista civica e quindi la stucchevole discussione destra-sinistra a noi non ci tocca minimamente perché noi stiamo lavorando sui temi e ovviamente questo dà fastidio e quindi qualche attacco anche pesante c'è stato, però poi come detto questa è la quinta campagna elettorale che faccio e non mi meraviglia nulla perché appunto parlando ai cittadini di quello che vuoi fare sicuramente è la miglior risposta a quanto viene fatto, magari con qualche colpo basso perché non si hanno argomenti. E Leonora Magno? No, vittima no, sono molto più forte di quello che sembra, quindi non mi sentirei assolutamente tale, qualche malcelato ma anche gallioffo tentativo di insinuare, ma non manifestamente perché non c'è questo coraggio di esposizione, soltanto presso le famiglie che però sono molto consapevoli di quanto io sia invece capace di rispondere alle loro aspettative, quindi insomma si è voluto sottolineare che magari poi il dirigente scolastico non sarà in grado di occuparsi della scuola o che non sarà in grado di occuparsi del comune, ma io sono in fondo anche più forte se si fa questo tentativo perché mi dà l'occasione di dire che occupandomi come ho sempre fatto della scuola a tempo pieno mi occupo e mi occuperei tanto meglio e tanto più del comune che avrà tutto il mio tempo e sicuramente molto più tempo e molta più capacità di aderenza e capacità di visione dei candidati avversari che qui non ci sono stati negli ultimi anni e non credo ci saranno tanto in futuro. In questo secondo giro di nove domande abbiamo chiesto ai candidati sindaci se si sono o meno mai sentiti in dovere, è la stessa domanda che stiamo solamente ripercorrendo per Fabio Altidonante, vittime di situazioni create ad arte da avversario, da contorni politici per quella che è la vostra candidatura. Vittime assolutamente no, io ho fatto il mio percorso istituzionale interamente nel centro-destra e mi è dispiaciuto qualche distanziamento locale di partiti storici alleati con cui sono al fianco tuttora in Regione Lombardia, con la Lega Nazionale mi sono chiarito e spero subito dopo delle elezioni di chiarirmi definitivamente con Fratelli d'Italia, anche perché a Montorio abbiamo una sfida con il PD ufficiale, io quello che chiamo il PD ufficioso dell'amico di Giambattista perché credo che nella lista di Giambattista ci siano più tesserati del PD rispetto al PD ufficiale. Terza domanda di questo ultimo incontro di comunicazione politica per Montorio, ripartiamo da Eleonora Magno per chiederle cosa l'ha particolarmente colpita, in chiave positiva, lungo questo cammino, se c'è stato un episodio, l'atteggiamento di uno o più soggetti di questo o di quel territorio. L'incoraggiamento forte a rimanere sul tema della strategia nazionale e aree interne, le mail che mi sono arrivate dopo i tentativi di ironizzare su questa strategia, ma le persone che la conoscono meglio e le persone che hanno visto attraverso questa, una strada per raccogliere energie vere, vocazioni di questo territorio, l'ultima mail l'ho letta stamattina piuttosto presto, un signore che dice di non essere di Montorio, di non vivere qui, ma di avere qui i genitori anziani, mi ha detto, li ho sentiti parlare di SNAI e non stavano parlando di scommesse, come ogni tanto ironizza al titonante, stavano parlando di strategia nazionale e aree interne e sono rimasti colpiti dal fatto che ho detto questa sarà la strategia che risponde alla voce del vomano, la voce che noi sentiamo dalle finestre del centro. Questo mi rende estremamente forte, il territorio ha capito e questa sarà la via e questa è la cosa più bella che mi è capitata qui. Fabio Altitonante, non so se devo riproporre la domanda o se nella sua mente è già scolpita, se ci sono episodi, momenti del territorio o di soggetti politici e non che l'hanno particolarmente colpita in positivo, in questo caso durante il corso della sua campagna elettorale. Colpito umanamente un ex sindaco di Montorio che ha 82 anni, che è entusiasta del nostro progetto Montorio, lui ha fatto il sindaco negli anni 90 quando Montorio era importante, quando Montorio era grande e gli piange il cuore a vederla come oggi distrutta e quindi vedere un uomo di 82 anni che è stato tanti anni in comune a Montorio, prendere la macchina e girare, girare, girare mi fa emozionare. Una battuta sulla strategia SNAI, lo sappiamo che non sono le scommesse, ma visto che parliamo di una professoressa preside, di solito a scuola quando ci sono i compiti in classe si copia dal più bravo. Bene, SNAI è una strategia perdente da più di dieci anni che non ha portato nulla in nessuna zona d'Italia in cui si è attuata. Ovviamente Remagno potrà replicare quando sarà il suo momento, chiedo ad Alessandro Di Giambattista la stessa cosa. Momenti particolari di questa campagna, di quelli che ricorderà a prescindere? Il fatto che dopo sei anni, un tempo relativamente breve, nessuno dei miei sostenitori, anche di persone che votano alle altre liste, mi hanno rinnovato la loro stima, hanno capito il perché del mio ritorno in campo e c'è stato un grande incoraggiamento da parte di tanti cittadini, altrimenti questa nuova avventura sicuramente non l'avrei ripetuta. Per quanto riguarda poi discorsi relativamente a quelli che si fanno circa una strategia e quant'altro, io ritengo che vi sono, ma li spiegheremo meglio in seguito, altri argomenti e altri istituti che possano tirar fuori Montorio dalle secche in cui è finita in questi ultimi sei anni. Ripartiremo con Fabio Altitonante per la quarta domanda legata alla burocrazia. Che fa male al territorio nazionale? Chiedo se sarà possibile che i montoriesi non ne patiscano più di tanto le conseguenze e se sì, come? La burocrazia nasce da norme nazionali, regionali. I cittadini sono sommersi di burocrazia, ma le aziende, le imprese sono sommersi di burocrazia se vogliono ampliarsi, vogliono insediarsi e poiché i posti di lavoro le accreano le aziende private, noi istituiremo in comune a Montorio l'angelo della burocrazia, quindi in uno sportello per aiutare imprese e cittadini a districarsi con la burocrazia. E dove possiamo direttamente, quindi con lo sportello unico attività produttive piuttosto che l'autorizzazione unica ambientale, faremo delle procedure trasparenti anche a livello digitale sul sito del comune di Montorio Alvomano dove digitalizzandolo anche l'anagrafe sarà accessibile, i cittadini non devono venire sempre qui in comune, quindi un comune che si avvicina ai cittadini non solo a livello digitale, non solo a livello fisico con l'angelo della burocrazia, ma anche per le frazioni faremo un camper Montorio Alvomano, comune che andrà almeno una mattina a settimana nelle frazioni, perché le frazioni in questi anni sono state abbandonate e si sono desertificate in maniera ancora più forte che Montorio. Di Giambattista. Io ritengo che l'angelo della burocrazia principalmente in un comune come il nostro debba essere il sindaco che poi debba ascoltare i cittadini per quelli che sono i propri bisogni, cercare di accompagnarli anche agevolando se vogliamo le procedure, ovviamente la sfida della digitalizzazione non è soltanto quella della lista di un'altra Montorio, ma è di tutti perché questa sì che è una strategia nazionale affinché la cosa pubblica sia più vicina ai cittadini, ovviamente per quanto riguarda le imprese sarebbe più interessante un discorso relativo ad una zona economica speciale che riuscirebbe a semplificare tutto anche e soprattutto sulla base dei finanziamenti che vi sono, lì sì parliamo di milioni di euro che potrebbero essere a disposizione di tutti e non di idee molto vaghe e se vogliamo anche vane per il nostro territorio. Eleonore Magno, sarà possibile che Montorio riesca a superare la paura della burocrazia che spesso è alla base veramente di tanti ritardi? Bella domanda che mi consente anche un pochino di rispondere alla provocazione di altitonante, non posso resistere perché è vero che io non sono, nonostante la professione e il mondo della scuola, ma non sono assolutamente un'esperta di copiatura, non sono brava a copiare, sono abituata a studiare, quello sì, normalmente ecco, è in questo modo che si vincono i concorsi e io sono dove sono per aver vinto concorsi pubblici. Ora, questo è un esempio e forse potrà studiare anche Fabio, potrà studiare e perché no anche Alessandro Di Giambattista, Valle Maira, nessuno è mai troppo vecchio per studiare. Valle Maira è un esempio di territorio che ha utilizzato la strategia nazionale aree interne per uno sviluppo importante, oh oh oh, questo è molto grave, dicono di non conoscerla, mi spiace per loro, ma tornerò sui temi perché è la mia forza, è la mia forza, cari cittadini montoriesi, io sono sui temi, la burocrazia, come si vince la burocrazia, anche in questo caso studiando soluzioni e innanzitutto va studiata la soluzione per una burocrazia che ha reso immobile la ricostruzione e di lì che cominceremo a lavorare, ricostruzione e assolutamente, questo naturalmente sfruttando l'ottimo lavoro già fatto dal commissario Lennini per la semplificazione e agendo sugli uffici, sugli uffici tecnici, lavorando nell'organizzazione completamente diversa del lavoro all'interno degli uffici del comune. Riparte Alessandro Di Giambattista perché credo che parlare di lavoro per un ente territoriale sia difficilissimo, lo è per il governo centrale, figuriamoci se non lo possa essere o se non lo sia per un ente territoriale, però sembra inevitabile non parlarne, bisogna avere qualche idea anche per il lavoro e io direi anche non soltanto giovanile, considerando che il problema è di tanti. Allora come dicevi giustamente tu è un problema che riguarda tutto il territorio della nazione non oserei dire mondiale, perché in questo preciso momento storico dopo la pandemia da Covid molti posti di lavoro sono stati perduti. Quello che è importante secondo me adesso è creare, in questo caso si studiare come diceva la professoressa Magno, delle attività, degli incentivi che possono aiutare le aziende locali a mantenere quantomeno i posti a livelli attuali di occupazione e anche se è possibile a crearne qualcun altro in più. Ovviamente un esempio ce l'abbiamo qui dietro, nel corso degli anni sono andate in pensione diverse persone, diverse figure all'interno dell'amministrazione comunale e nessuno è stato rimpiazzato. Quando la professoressa Magno parla di uffici tecnici, organizzazione del lavoro forse non sa che l'ufficio tecnico del comune di Montorio ha perso tre unità nel corso degli anni e non è stato mai rimpiazzato nessuna persona, quindi sarebbe opportuno che venisse rinforzato prima di tutto da un punto di vista numerico l'ufficio tecnico per poi passare ovviamente all'organizzazione, snellire le procedure ed aiutare non solo le imprese ma tutti i cittadini a far sì che il livello occupazionale sia mantenuto se non aumentato. Eleonora Magno Posti di lavoro, certo, una assoluta necessità, è un paese sofferente, questo che ha bisogno che si riattivi l'economia, non in una sola direzione, in diverse direzioni, incentivare assolutamente in tutti i modi possibili anche la ripresa del commercio, dell'attività commerciale che è stato fiore all'occhiello di questo paese quando effettivamente aveva un'altra centralità sul territorio, ma anche, sì, anche tanto sostenere l'attività delle imprese andando incontro su tutte quelle che sono state denunciate come esigenze, come mancanze di attenzione da parte dell'amministrazione, soprattutto la più recente, quindi sostegno alle imprese, certamente con le infrastrutture innanzitutto, sia l'attenzione alla viabilità ma certamente anche alla rete internet che è stata un problema qui anche nel momento drammatico del lockdown quando la scuola ha promosso la didattica a distanza, è stato un problema per molte famiglie non avere l'adeguata connessione a internet. E poi ancora però torno sul discorso del turismo che deve essere il faro, il faro di questo paese, lavorare sulla promozione turistica, un turismo che sia sostenibile, ecologico, naturalistico, verde, lento. Ecco, io farò ulteriori esempi. Grazie, grazie. Un'idea di facile applicabilità, se c'è, per incentivare il mondo del lavoro, ripeto, non soltanto giovanile. Lavoro collegato a posti di lavoro, come facciamo a ricreare ricchezza? Perché la ricchezza porta i posti di lavoro con tre azioni concrete. Primo, ricostruzione, ferma al 2009. Mi fa sorridere Eleonora quando dice che arriverà a lei, si ricostruisce quando alla sua punta di diamante è l'assessore alla ricostruzione 2009 e 2014 dove non è stato messo un mattone al colle. Perché riportare ai residenti vuol dire riportare economia anche ai commercianti. due, iniziare a valorizzare quello che abbiamo per poter accogliere e riattrarre i turisti. Perché turisti vuol dire, quindi anche qui, generare un indotto con i commercianti e le attività produttive. Tre, la cosa più importante, le imprese. Noi abbiamo delle filiere straordinarie a Montorio, non ce ne rendiamo conto. Abbiamo ad esempio la filiera delle sedute, con aziende importanti che fatturano diversi milioni di euro, come la filiera dell'edilizia. Bene, queste aziende oggi hanno necessità di competenze, dei bisogni formativi che non ci sono. E allora quando parlo di campus, questo grande campus di riferimento, che non è solo la scuola, ma è anche la biblioteca e anche formazione in accordo con la regione e soprattutto con le imprese di Montorio, che hanno necessità di professionalità che oggi non ci sono. I posti di lavoro le creano le imprese private. Quindi noi faremo un lavoro sulla ricostruzione, un lavoro sul turismo, ma un grande, grandissimo lavoro sulle imprese. Perché non c'è solo la fascia giovanile, ma c'è anche la fascia di 50 anni che si devono riconvertire. E quindi avere un campus che si occupa anche di formazione per i ragazzi di 20 anni, 25, ma anche la riconversione dei 50 anni, diventa un punto strategico. L'accesso alle opportunità del mondo del lavoro parte dalle competenze e dalla formazione. Riparte Leonora Magno, una domanda quasi doppia, nel senso che la domanda specifica riguarda i giovani, parlate ai giovani, cosa dite loro e se temete a vostro danno il rischio che è tale del non voto? Va scongiurato, è un rischio reale quello del non voto. Va scongiurato e il contatto, l'attenzione, l'ascolto nei confronti dei giovani è quello che abbiamo tentato di promuovere, ma mi sento di rispondere che non basta e non è il lavoro che si può fare per la durata di una campagna elettorale. È il lavoro che si fa quotidianamente, che fa la scuola, è un'educazione alla cittadinanza e quindi l'educazione e la formazione dei giovani a questo mira, a fare in modo che poi siano cittadini consapevoli, capaci di esprimere il voto e quindi è importante, importante, importante che riusciamo a vederli tornare alle urne e allora misureremo anche su questo l'efficacia del lavoro svolto, non soltanto naturalmente nella scuola di Montorio ma anche negli istituti superiori. Io vorrei ricordare ad Altitonante che qui abbiamo soltanto l'istituto comprensivo e quindi pensare a una precoce curvatura della formazione dei ragazzi rispetto alle esigenze del lavoro, delle imprese è qualcosa che è assolutamente dannoso rispetto all'obiettivo lungo che ha la scuola sulla formazione e sull'educazione dei ragazzi. Chiedo ovviamente la stessa domanda per Fabio Altitonante, se avete pensato e in che modo ai giovani e se temete il non voto che spesso è legato proprio al mondo giovanile. A Montorio voteranno circa 60 ragazzi per la prima volta, 18 anni, io ne ho incontrati 4-5, quindi già il 10% che mi hanno anche fatto emozionare perché hanno letto il programma, ci credono, anche loro vogliono il cambiamento ma soprattutto questa campagna elettorale sta facendo riscoprire l'orgoglio di essere montoriesi perché questi ragazzi il primo obiettivo che avevano era andare via da Montorio, con il nostro programma e i nostri progetti hanno voglia di fare il viaggio insieme a noi perché noi faremo tornare Montorio un paese delle opportunità perché non ci dobbiamo scordare che anche oggi la filiera edilizia, la manifattura che c'è oggi sono aziende nate 30 anni fa da persone normali che si sono rimboccate le maniche. Bene, oggi questo non può succedere più perché quel genere di opportunità dalle competenze e la voglia di fare non c'è. Ecco, sta tornando questa voglia con dei progetti concreti e quello che ho riscontrato anche nelle ultime settimane è una cosa curiosa e non va mai presa la campagna elettorale sul personale. Io non ho mai visto nella mia vita di Montorio dei pulmini di altri comuni che vengono a prendere i ragazzi per portarli in altre scuole, quindi elementari e medie. Quindi significa che dobbiamo migliorare anche la parte scolastica e questo è l'obiettivo del campus. Alessandro Di Giambattista, credo non ci sia bisogno che ti ripeta la domanda. Allora, i giovani sono il futuro quindi non è questa. Potrebbe sembrare una risposta retorica. Ovviamente per far sì che ci sia l'ascolto di loro stessi, ovviamente io nella mia lista ho messo diverse persone giovani. Forse è la lista che contiene più giovani perché bisogna capire le necessità, le esigenze dei giovani affinché questi vengano invogliati a prendere parte alla vita pubblica, alla discussione e quindi magari portare idee che possano aiutare a rinascere Montorio. Per loro bisogna avere una particolare attenzione soprattutto per quanto riguarda la loro attività formativa che possa poi portare a una loro occupazione perché solo facendo rimanere i giovani a Montorio ovviamente potremo porre le basi affinché Montorio torni ad essere quella che era una volta. E io quando parlo di imprese, ovviamente qui per chiarire anche alcuni punti relativi a precedenti domande, parlo di tutte le tipologie di imprese, anche quelle commerciali perché fare il commerciante è anche un'impresa. Quindi l'attenzione va soprattutto, ritengo, ai giovani perché è con loro che si può tornare ad essere il centro dell'attenzione nell'entroterra terramano. Ripartiamo con la settima, terz'ultima domanda di questo incontro. Vi invito, qualora lo riteniate opportuno, anche a consumare i vostri concetti, sempre nel rispetto della pariteticità temporale, anche in una maniera più ampia se volete, perché siamo in anticipo rispetto ai tempi previsti. Riparte, dicevo, Fabio Altitonante su un fatto credo che siate tutti e tre d'accordo, perché questa città ha bisogno di governabilità. Su questo non ci sono dubbi, si viene da due commissariamenti consecutivi. Perché lei e poi gli altri si sente nella condizione di poterla garantire? La nostra lista è una lista di giovani, a maggior parte giovani, sono la prima esperienza elettorale. Nella nostra lista non c'è nessun firmatario dei due commissariamenti. Nella lista del collega di Giambattista ce n'è uno, quindi una quota che può essere fisiologica a Montorio. Però poi abbiamo il record assoluto nella lista del PD ufficiale, dove sono 9 su 12, protagonisti dei due commissariamenti. Quello vergognoso durante il lockdown, quando morivano 200 persone al giorno, e poi il commissariamento di Dicenta, avvenuto perché Dicenta aveva fatto la tessera del PD. E oggi gli stessi che hanno commissariato Dicenta perché aveva fatto la tessera del PD, sono alleati del PD ufficiale. Come detto, questo è il motivo principale per il quale io mi sono ricandidato, per ridare a Montorio una stabilità amministrativa che ha perso nei sei anni successivi alla conclusione dei miei due mandati. Ovviamente io non posso non tener conto di quello che ha detto Fabio Altitonante perché è un'evidenza praticamente. Nella lista del PD ci sono del centro-sinistra più che del PD, perché del PD c'è ben poco, se vogliamo. C'è un coacervo, come dicevo nei giorni scorsi, anche di personaggi che hanno cagionato la caduta di ben due amministrazioni che non hanno mostrato coerenza con quello che hanno fatto in passato e con quello che devono fare in questa campagna elettorale che sta andando a concludersi. Ovviamente, che dire, se fosse una lista diversa dalla mia a vincere ci sarebbe il rischio concreto di un nuovo commissariamento perché i litigi e le passate a credini tra personaggi che sono all'interno di una lista in particolare potrebbero portare nuovamente Montorio sull'orlo di un commissariamento e questo sicuramente non sarebbe un buon auspicio per il futuro del nostro Paese. Magno, perché la sua lista invece si sente nella condizione di poter garantire governabilità di una città che ha bisogno di essere governata? Due precisazioni piccole che forse poi renderanno più credibile quello che affermerò. Intanto io ringrazio Altitonante che all'apice della sua carriera politica in Lombardia, quando tutto procede in modo, quando tutto va a gonfie vele, proprio all'apice della sua spedita carriera, fa il sacrificio enorme di venire a Montorio per A. soccorrere la scuola montoriese che non funziona bene secondo lui, B, 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 e infatti noi abbiamo il miglioramento continuo che è qualcosa di intrinseco e che perseguiamo tutti i giorni. B viene a soccorrere un Paese che per colpa dell'opposizione che ha fatto cadere un'amministrazione che invece altrimenti sarebbe stata in piedi. Sappiamo tutti che quando cade un'amministrazione la responsabilità è innanzitutto del sindaco e questa insomma vacillava da un po'. E continuo a raccontare questa fiaba populista che qui le famiglie non hanno avuto il sostegno cui avevano diritto perché è caduta un'amministrazione. Quando invece era già stata fatta la delibera e sono stati gli uffici poi a dare quello che dovevano a tutte le famiglie senza lasciarne fuori una, perché vedete c'è qualcosa che si chiama amministrazione pubblica che va avanti quando sono prese le decisioni e sono assunte le delibere perché non si danno sostegni come fossero elargizioni, privilegi agli amici. C'è un ufficio che fa il suo lavoro e lo porta a termine anche se un'amministrazione cade. Allora perché questa lista, ahimè, mi spiace per i miei contendenti, ce la farà se vorranno votare me i cittadini montoriesi? A mantenere il percorso in piedi fino all'ultimo? Perché non è vero che ci sono divisioni interne semplicemente? Perché c'è un sindaco capace di leadership che governerà fino alla fine con il supporto del Partito Democratico. Quello stesso partito che è stata la ragione della durata di due mandati consecutivi dell'incarico di Alessandro Di Giambattista da sindaco. Sarà proprio Alessandro Di Giambattista a ripartire. Mi permetto di ricordare che ove ci fossero precisazioni l'un l'altro, quando è il vostro momento potete farlo. Adesso vorrei stare sulla stretta attualità perché oggi nel breve volgere di un paio d'ore nelle varie redazioni abbiamo acquisito tre comunicati stampa distinti, due di un tenore, un terzo secondo il mio parere di natura diversa. Io voglio ripartire da questi. Di Giambattista ne ha diramato uno dove più o meno ironizzando probabilmente diceva basta scommesse SNAI. Adesso c'è il concetto da poter esprimere in qualche minuto. E' semplice. Io non credo in un sistema nazionale delle aree interne che non ha prodotto nulla sul territorio nazionale. Se non nella Valle Maiera, ha detto la professoressa Magno prima, spero di non sbagliare perché non la conosco, non conosco questa località, ma mi attengo a quello che è scritto sul Sole 24 Ore, che non è un giornalino da condominio. ieri praticamente diceva che era una strategia fallimentare che non ha prodotto nulla, mentre ritengo che agendo sulla regione potrebbe anche ottenersi quella zona economica speciale perché Montorio è un comune depresso, che potrebbe questo si portare finanziamenti per le aziende, per le imprese, per i commercianti, per tutti i cittadini perché ci sono soldi veri, soldi freschi e noi lavoreremo su questa direttiva. Ovviamente rimane stucchevole il discorso centro-destra, centro-sinistra perché ritengo che bisogna parlare di temi, anche se voglio fare una precisazione a quello che ha detto la professoressa Magno Pocanzi sulla durata dei miei mandati amministrativi. Uno in particolare, il secondo, due consiglieri di maggioranza del PD, di cui qui non sto a rifare i nomi ovviamente per non farne pubblicità, avevano firmato una mozione di sfiducia nei miei confronti assieme al centro-destra, mozione di sfiducia respinta e questi due soggetti non sono stati mai cacciati dal PD. Esatto, ma mi hanno lasciato la porta so chiusa perché stanno aspettando lunedì a vedere che cosa succede perché nel caso in cui dovessi perdere, vigere le elezioni, cambierebbe sicuramente qualcosa. Se le dovessi perdere ovviamente poi farebbero il processo con fucilazione sulla piazza del popolo, quindi questo è lo stile di dirigenti attuali perché la professoressa Magno dice sempre che il PD è un partito inclusivo e in questo momento mi sembra più che altro un partito che caccia a pedate persone che lo hanno servito per diversi anni. Eleonora Magno, tocca a lei, la domanda la voglio ricondurre anche al suo comunicato stampa odierno che lei ha indirizzato verso la trasparenza. Il comunicato stampa di oggi della sua lista parlava di trasparenza come elemento fondante. Trasparenza, correttezza, regole, informazione chiara e a proposito di informazione sarei molto grata al candidato Alessandro Di Giambattisa se volesse magari farmi avere questo articolo del Sole 24 ore a pubblicarlo perché mi piace documentarmi, quindi siccome non l'ho trovato mi piacerebbe vederlo. Vorrei aggiungere che non sta certo a me dire quali saranno poi le intenzioni del Partito Democratico, però vorrei ricordare che in diretta, certo non credo si senta quello che sta dicendo il candidato perché ho io il microfono, però il segretario regionale Michele Fina in diretta a Facebook l'altra sera quando è stato qui Borghi è stato lui a dire che ci sono poche regole ma chiare, poche ma chiare all'interno del PD e quindi se in occasione di una candidatura ufficiale del PD c'è un tesserato che crea un'altra lista che oltretutto poi si va a collocare nel centro-destra, beh per il Partito Democratico significa che non è del PD. Io al momento ho temi, programmi, candidati, esperti che sono perfettamente con me sul mio progetto, sono tranquillissima. Il comunicato stampa odierno invece della lista di Fabio Altitonante faceva riferimento a Montorio come città da rilanciare e a rilanciarla, dice Altitonante, saremo noi. Saremo noi perché anche non ci serve un segretario regionale di un partito, in questo caso il PD che fa la diretta a Facebook per spiegare cosa debbano fare i montoriesi, non ci servono dei consiglieri regionali della zona del mare per dire cosa bisogna fare a Montorio, non ci servono persone che hanno portato la distruzione a Montorio perché oggi il PD dopo 30 anni ha portato alla distruzione a Montorio. Allora partiamo da delle azioni chiare dove abbiamo anche i soldi a bilancio perché fare il campus sono 5 milioni di euro, qui siamo a poche decine di metri dall'ex Pascal che dovrà diventare un centro servizi e di rilancio Montorio-Porta del Parco, anche qui ci sono 5 milioni di euro, abbiamo circa 5 milioni di euro anche per la residenza degli anziani e poi c'è il tema della salute perché noi qui abbiamo un poliambulatorio, così capiscono i cittadini, che addirittura è stato declassato nei 5 anni di governo di regione del PD e noi vogliamo rilanciare con due cose concrete, uno un centro di prevenzione del tumore al seno, lo possiamo fare, già ho sentito l'AS di Teramo, c'è il budget necessario e due un centro radiologico diagnostico proprio di un hub per il nostro territorio, ecco queste sono le nostre azioni chiare per il rilancio di Montorio con le priorità assolute che ha rilancio dell'economia, quindi ricostruzione, imprese, turismo, ecco questi sono i tre pilastri che porteranno Montorio a un rilancio. Siamo al giro conclusivo che riparte con Eleonora Magno, candidato sindaco, perché fra 5 giorni 5 questo comune avrà un nuovo sindaco e non dipenderà soltanto dalle vostre capacità, dalle vostre bravure, dai vostri programmi, dalle vostre credibilità che ciascuno di voi ovviamente ha, ma dipenderà da chi ci sta ascoltando, perché saranno loro ascoltandovi nel fare le loro scelte. Per quanto ci riguarda, per Teleponte, per Econews, questa è l'ultima possibilità che possiamo offrirvi per parlare loro. Sapete voi cosa dire a chi domenica e lunedì andrà al voto? Cari cittadini, è un onore per me rivolgermi direttamente a voi. Colgo questa occasione per un appello al voto, per chiedervi di riflettere, perché questa è un'opportunità unica, è vero che è un'opportunità unica, perché stavolta in questo paese il comune non solo avrà i finanziamenti giusti per poter ripartire, ma potrà incrociare anche ulteriori finanziamenti che sono quelli che arriveranno dal Recovery Fund. E allora affidatevi a chi crede che è una progettazione attenta, competente, rispettosa delle risorse naturali, delle vocazioni, di quello che c'è sul territorio. Affidatevi a chi non ha altre finalità e altre motivazioni, se non quella di mettersi al servizio. Affidatevi a chi negli anni di esperienza professionale ha dato prova proprio di questo, di saper valorizzare il lavoro di squadra, di saper essere leader e però anche di saper unire e quindi riportare l'armonia, farlo per il bene delle famiglie del posto, farlo per il territorio. Questo è quello che io posso offrire a tutti la stessa competenza, serietà, onestà, capacità di lavoro. Grazie Eleonora Magno, grazie anche per i tempi. Fabio Altitonante, poi chiude Alessandro Di Giorgio. Non ho nulla a dimostrare e la mia candidatura è un atto d'amore per il paese in cui sono cresciuto che mi ha dato i valori più autentici e mi hanno fatto diventare l'uomo che sono. Io farò il sindaco a tempo pieno perché qui c'è da fare un lavoro incredibile e difficilissimo è il consigliere regionale della Lombardia a distanza, come un plus, un'occasione in più per far crescere Montorio. La mia sarà una missione dove torno, voglio e i montorriesi lo devono comprendere, spero che lo comprendano, ci dobbiamo tornare a prendere cura dei montorriesi. Abbiamo una squadra giovane, io farò cinque anni, formerò una classe dirigente vera che non firmi il commissariamento con 200 morti al giorno, le persone che chiedevano il buono spesa alla Conad e faremo tornare grande Montorio. Chiude Alessandro Di Giambattista. Chiedo il vostro consenso, cari amici montorriesi, perché la nostra lista è una lista seria, competente, affidabile e che darà stabilità al nostro comune e rimetterà con la realizzazione del proprio programma Montorio al centro degli interessi dell'entroterra Terraman. Restituiremo un consigliere a tempo pieno alla regione Lombardia e avremo un preside altrettanto a tempo pieno nelle nostre scuole e ce n'è tanto bisogno. Buona serata. Questo è l'appello al voto di Alessandro Di Giambattista. Io ringrazio Montorio, la ringrazio tutta per l'affetto, le critiche, qualche consenso che è piovuto nei nostri riguardi, che consentitemelo di dire. Primi fra tutti con EcoNews e con Teleponte abbiamo deciso di seguire una fase storica di questa città, perché dinanzi ad una fase storica di questa città siamo. Poi vinca il migliore, vinca chi la città di Montorio vuole, che siederà sullo scranno del sindaco, del primo cittadino di Montorio, Albumano. Vi auguro un grosso in bocca al lupo a tutti. Seguiremo le evoluzioni delle elezioni, ovviamente dal comune. Saremo qui presenti quando martedì, non lunedì, martedì inizierà lo spoglio. Non nella giornata di lunedì, è bene che si sappia, ma nella giornata di lunedì. Ci sono prima i referendum e altre elezioni da vedere. Grazie a tutti. In bocca al lupo.